Ciao bandini bentornati in questo nuovo video Oggi ho sbagliato Tiger No no stavolta no ragazzi Però non ho la busta Quindi non vi posso prevedere la busta di domenica Sembra iniziare subito col video Allora la prima cosa che ho comprato Due pacchetti di bolle di sapone E uno azzurro con i pollini verdi E uno rosso con i pollini penne Che sono fatti così Con i pompon E un fiocchetto Che sono delle penne Questa è per mia cugina Allora in pratica qua stavo parlando Che c'era una domanda Sul video lo faccio o non lo faccio challenge Che c'era scritto in una domanda In un bigliettino Ti devo comprare o fare una cosa Quindi le ho comprato questa a mia cugina Perché era una domanda Le ho comprato questo di Tiger Questo qua con il fiocchetto azzurro Con i cua E questo qua rosa Io ho preso questo lucchetto Oggi che è enorme Allora qua sto spiegando Che avevo preso questo lucchetto Perché ci stava con il mio zainetto Che è rosa Perché lo devo mettere lì Solo che non ci entrerà mai E poi mai Quindi ci dovrò mettere un filo Quindi non lo so Sarà bellissimo però La stessa mi aveva detto Che non c'era più Che non lo vendevano E invece guardate L'ho trovato E sono felicissima In pratica Se non sapete come si gioca Forse 4 è un gioco Dove devi fare una pila Di 4 colori Tipo fai tutto rosso Una fila Fai una fila tutta rossa Ed è vinto La puoi fare in diagonale In verticale Orizzontale E questo colorante di Tiger No Cioè Siccome sono andata Dal McDonald's Ho vinto questa cosa Qua Non mi ricordo come si chiama Se ve lo ricordate Ditemelo E questa qua Con il cappello Pezzinino Con a forma di mela Niente Su questo video Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Condividete il video Su tutti i vostri social I miei social Li trovate giù in descrizione Ci vediamo nel prossimo video Dove faremo Lo slime Niente Ciao